Una realtà che negli anni non ha fatto solo assistenza ma ha creato anche progetti di integrazione e vicinanza dando vita a sinergie con istituzioni e associazioni. È la ronda della carità da sempre a fianco degli homeless. Nel suo DNA l'assistenza a chi non ha nulla ma con il tempo e con questo rifugio molti progetti fatti nascere dal servizio colazione ai corsi di alfabetizzazione al servizio lavatrici con queste due macchine industriali ricevute in dono dalla Rotary che permette a chi arriva qui di fare il bucato e non gettare vestiti e coperte. La ronda pur mantenendo importantissimo il servizio notturno che è appunto servizio di assistenza, coperte e cibo si sta occupando di far sì di trovare sempre meno persone per strada e per fare questo bisogna assolutamente mettere in piedi dei processi di integrazione. Lo abbiamo fatto lo scorso anno con un partenariato con Confindustria per la creazione di persone che potessero lavorare in magazzino con operatori di logistica e quest'anno continueremo a fare questo. Ogni progetto che vogliamo far nascere in questo spazio che è il Rifugio 2 è un progetto che deve avere secondo noi un partner di progetto per far sì che le persone imparino un mestiere. Noi qua già facciamo attività di barbiere e quindi potrebbero nascere parrucchieri. Qua già facciamo attività di riparazione di biciclette, potrebbero nascere meccanici e in ronda già facciamo una grande attività di cucina e potrebbero uscire dei cuochi. Ed è proprio secondo questa visione che a breve partirà un nuovo progetto sulla scia del barbiere di strada, il servizio capelli offerto a chi arriva qui. Grazie alla collaborazione con MC Beta SPA, azienda che non solo produce prodotti per il mondo dei parrucchieri ma che fa anche formazione, il barbiere di strada diventerà qualche cosa di più. Ho conosciuto la ronda della carità casualmente portando delle coperte e da lì parlando con Alberto Sperotto mi avevano appunto detto che avevano sospeso il servizio barbiere di strada. In questo caso noi siamo un'azienda che fornisce prodotti a parrucchieri e naturalmente barbieri e quindi abbiamo pensato di portare avanti questa attività. Quindi ogni 15 giorni taglio dei capelli alle persone diciamo homeless e nello stesso tempo di dare un'opportunità come l'opportunità creando un nuovo mestiere. E quindi abbiamo coinvolto i nostri diciamo maestri, formatori e quindi faremo oltre l'attività di barbiere di strada ogni 15 giorni anche la formazione, formazione per conoscere le regole base del mestiere di parrucchiere, dare l'opportunità di un tirocinio e perché no se sono bravi possono anche essere assunti come apprendisti. Questa è la nostra volontà.